allora intanto abbiamo parlato tanto che aspettavamo che arrivassero le persone presentato un pochino giorgio baglietti come uno dei più importanti conoscitori di render chateau tant'è che aveva anche la casa quindi era proprio quasi un cittadino diremmo in affitto quindi accompagnava anche dei gruppi come ho detto più volte Voyager, Freedom con Roberto Giacobbo, Mistero quindi insomma e anche delle pubblicazioni sia con edizioni mediterranee che adesso l'ultimo libro che poi parleremo perché c'è un aspetto interessante che si ricollega nel chatur. Allora visto che siamo in 20 entriamo nel vivo della serata e io chiederei a Giorgio siccome c'è un 22 22 io ne vedo 21 comunque vanno e vengono dai li sapremo 24 e adesso arrivano tutti arrivano tutti. Allora ciao Francesco e ciao a tutti. Allora entriamo proprio nel vivo chiedendoti come è conosciuto Renle Chateau perché so che insomma già dal 1986 tu eri lì che indagavi nel mistero. Dici pure. Allora io sono arrivato a Renle Chateau appunto come detto giustamente nel 1986 quindi sono passati veramente tanti anni e molte addirittura di quelli che ci seguiranno magari non erano neanche nati ovviamente e perché ci sono arrivato? Perdendo un treno. Io studiavo a dovevo rientrare nel Savonese dove abitavo e perdo l'ultimo treno. Strano perché non ho mai perso uno molto puntuale. Degli amici comuni mi dicono senti c'è una camera libera alla casa dello studente. Prendo possesso di questa camera che era di un ragazzo greco cipriota che non c'era ovviamente. Trovo sul comodino, prima di dormire devo sempre leggere qualcosa, trovo un manoscritto che parla di questo paese Renle Chateau, Renle Castello, di un parroco Berangilsonnier, di una storia incredibile. Mi deve essere venuta la febbre, comunque io non ho praticamente dormito, credo ho preso sono alle sei del mattino perché mi ha talmente preso questa storia, però poi ho detto adesso voglio andare a vedere se è veramente così e sono partito con la fidanzata del tempo che poi è diventata mia moglie, abbiamo attrezzato un'auto, siamo andati là a Réle Chateau, siamo arrivati di sera, di notte al buio e praticamente abbiamo posteggiato. Al mattino come apro gli occhi vedo davanti a me la Tour Magdala. Tieni conto che era l'unica auto con targa italiana, c'erano due o tre macchine, una targa inglese e una francese, non c'era nessuno. Ho conosciuto Henri Boutillon che era il proprietario di tutto quello che era la proprietà di Sonnier, la villa Betania, la Tour Magdala, tutto quello che oggi è del municipio e mi ha fatto vedere praticamente tutto. Io sono entrato in villa Betania, che è una delle ville che fa costruire Sonnier, l'ho vista dalle fondamenta alle soffitte. Sono andato in chiesa, ho potuto vedere tutta la chiesa dietro, la canonica, la stanza segreta, uno stanzino dove c'erano soltanto dei detriti e una stanzetta dietro, praticamente dietro la chiesa, dove c'è l'altare, dove c'era una bambola che mi aveva colpito con dei capelli umani. Pensa, risaliva ancora l'epoca di Sonnier. Ho trovato veramente quello che era la Relle Choteau autentica. Poi in chiesa ho potuto vedere quel dialastato di un demone, il demone Asmodeo, che regge l'acqua santiera, che era l'originale. Perché purtroppo nel 1996 qualcuno lo ha decapitato e gli ha tagliato il braccio destro. Come se non bastasse, mi sembra tre anni fa, quattro anni fa, una donna con una maschera del carnevale di Venezia, parlando in arabo, è entrata e con un'acchetta ha demolito completamente Asmodeo. Quindi l'ha ricostruito per la terza volta. Devo dirti, Lucia, che però l'originale era qualcosa di particolare, aveva degli occhi di vetro blu strabici, che guardavano in due direzioni. Io ho delle foto ovviamente di questo e non sono più riusciti i nuovi, diciamo, restauratori a creare quella magia, di quella statua di quel demone. Sono arrivato appunto a Rennes Chateau e la cosa che mi ha colpito è che ho conosciuto poi un ricercatore, uno scrittore francese con cui siamo diventati amici. Cioè praticamente è come se questo luogo mi aspettasse, come dire, dove eri finora? Ero arrivato appunto a casa mia. Poi tramite uno scrittore inglese, Graham Simas, mi aveva affittato una casa proprio di fronte alla chiesa ed è stato veramente bello. Ho accompagnato delle persone. Roberto Giacobbe è stato in questa casa che io avevo diciamo incomodato d'uso e ha potuto fare delle riprese quando era ancora in Rai e abbiamo l'amicizia poi rimasta e adesso abbiamo fatto una ripresa recentemente che andrà in onda dopo a settembre con la nuova trasmissione che Freedom sarà su Italia 1. Ci siamo sentiti al telefono poco fa. Poi mi ha cercato anche Mistero con l'amico Marco Berri, Daniele Bofari. Abbiamo fatto un bel servizio anche per Mistero d'Italia 1 e diciamo, ma anche la radio, volevo ricordare la radio, soprattutto RTL 125 che con Giorgio Medal, che poi è mancato, abbiamo fatto una serata stupenda in diretta negli studi di Colonia Munzese, RTL appunto, ed è stato veramente molto molto bello. E poi sono iniziate le conferenze. Io guarda, tengo conferenze da Belluno, prima del Covid, ovviamente. L'ultima è stata Reggio Calabria, Catania, Marsala, Palermo, passando per Taranto, Foggia. Guarda, ho veramente girato tutta l'Italia dal nord a sud, perché c'è veramente molto interesse. Guarda, veramente ancora tanto, tanto interesse. Perché Réle Chateau è un crogiuolo, è come un contenitore che contiene tanti misteri e tanti enigmi. Io dico sempre, si parla dei soldi, perché ovviamente poi uscirà qualcuno, dirà il tesoro. Ci sono tante ipotesi di tesoro lì. Beh, innanzitutto, di fronte a Réle Chateau c'è una montagna che si chiama Besu, dove c'era l'ultimo forte dei Templari. Allora, i Templari finiscono nella famosa data del venerdì 13 ottobre 1307, da qui si dice che porta male, venerdì 13. Invece lì a Besu continuano a restare fino a 1340, 40 anni in più, e continuano a uscire vestiti con la croce patente rossa, l'abito da Templare, e si definiscono Templari. Perché questo? Questo è anche uno dei misteri di Réle Chateau. I siniscalchi di Filippo il Bello e di Clemente V non possono nulla in questa zona. Alcuni detrattori, sai, ci sono sempre quelli del Cicca perché dicono che è tutta un'invenzione, vabbè. Dicono che lì era Spagna, no, lì era Francia, era Francia anche in quell'epoca, quindi i Templari erano ancora in terra di Francia, vicino a Réle Chateau. È una catena di luoghi misteriosi, grandi enigmi tutti intorno, ma ne parleremo. Andando avanti. Intanto entriamo nel vivo della vicenda perché il protagonista, anche se i protagonisti poi vedremo che sono più di uno, però il protagonista, quello che conosciamo tutti, guai c'ho anche la cartolina che ho preso lì, è l'abbezzoniere. Quindi questo curato, questo parroco di questo piccolo villaggio di montagna con pochi abitanti che a un certo punto, in una data importante, fa una scoperta e da questa scoperta si arricchisce, inizia a costruire, a restaurare e da lì a conoscere personaggi importanti. Quindi raccontaci qualcosa di, te l'abbezzoniere, era anche un omone, guarda quanto era, si vede che era alto un metro e novanta. Sì, alto un metro e novanta, lo so con esattezza perché nel 2000 e, aspetta, nel 2004 mi sembra, sì, è stata spostata la sua tomba perché dal cimitero dove lui era sepolto dal 1917, si era fissato al sindaco dell'epoca, Lulieu, che era un uomo di Mitterrand, aveva messo François Mitterrand, tra l'altro François Mitterrand, presidente di Francia, tra le primissime visite in Francia l'affare l'esciatore, per dirti. Ebbene, il sindaco vuole traslare la tomba di Sogné che aveva una croce scolpita, grezza, su cui vi era l'iscrizione INRI con la N girata al contrario e anche questo è piuttosto singolare, questa, la ritroveremo dopo, più ricordatevi questa N girata al contrario. Ebbene, toglie la bara, fa aprire la bara e detto che c'era lo scheletro di un metro e novanta, guarda che un metro e novanta nell'Ottocento era veramente molto, molto, molto alto, se vogliamo, veramente. E è stata poi traslata la tomba e portata all'interno del giardino, appunto della proprietà del municipio, ecco oggi è municipalizzato il tutto e appunto c'è questa tomba, a me non piace molto, una tomba moderna, non ha più il fascino di avere, nel cimitero a me si spoglia, la gente non ci può più andare, scusa sposto soltanto la spina, ecco così. Intanto io faccio vedere un cartello e ti dico è piuttosto spoglia, ecco, ecco così forse si vede un po' meglio, è che ti dicevo è piuttosto molto quando sono andata nelle chateau, ci trovate questo che dice gli scavi sono proibiti, perché lì sia nel cimitero che ovunque le persone sono andate. Esatto, sì esatto, hanno scavato tutto, nel cimitero non si può più andare, io ho il permesso, per carità, posso portare giusto una persona o due, però gruppi di persone possono più andare perché, e ti ci porto ovviamente, perché non, perché c'era gente che andava là e spaccava tutto, ad esempio la Sonia aveva una governante, una perpetua che si chiama Marie de Narnot e io sono ancora riuscita a vedere e a fotografare sulla sua tomba c'era un cuore di latta asfaltata e l'hanno rubata anche quello dalla tomba della sua perpetua che è morta nel 1953 e diceva al sindaco che hanno cercato di portare via proprio tutta la barra del parroco perché si pensava che dentro ci fosse un tesoro e quindi l'hanno spostata con tanto di telecamere che controllano il tutto lì. A proposito di questo io quando avevo quella casa proprio di fronte alla chiesa, una sera sento le sirene della gendarmeria, i carabinieri francesi, che salgono a Rennes, era la sera del 24 giugno San Giovanni, ci sono due dati importanti a Rennes, 17 gennaio perché avviene un fenomeno ottico unico al mondo e il 24 di maggio, appunto San Giovanni, in questa notte si ritrovano lì persone bizzarre, c'è un po' di tutto. Comunque sento le sirene della gendarmeria che arrivano perché una persona voleva entrare a mezzanotte nella chiesa di Maria Maddalena, non dimentichiamo che qui è tutto dedicato a Maria Maddalena, è la regina di questi luoghi. La Madonna c'è, tu l'hai visto in chiesa, però è dietro l'altare, la Maria Maddalena è più importante, tant'è che molte croci dell'Ottocento, sia a Rennes le Chateau che al Besuch, che a Rennes le Ben, che nei dintorni c'è una croce sulle tombe, ma non c'è Gesù, c'è una donna. Forse questo per riminiscenza del femminino sacro, su cui tra l'altro ho scritto anche un libro, La Dea Dimenticata, che parla appunto del femminino sacro, un tema che mi è molto caro, magari faremo un'altra trasmissione su questo, da Ascera, dal Tempio di Re Salomone, fino passando per Iside, arrivando a Maria Maddalena. Ebbene, arrivano i gendarmi e traggono in arresto una persona che voleva entrare a mezzanotte della notte di San Giovanni nella chiesa. E tu dirai, vabbè, qualche tombarolo, no? Era un parroco, un parroco di Monsignor Lefebvre, il vescovo scissionista poi scomunicato da Paolo VI, perché un parroco sfida la legge, è anche una denuncia, che cosa va a fare a mezzanotte della notte di San Giovanni in questa chiesa. E' un po' la risposta che io do quando io faccio delle mie conferenze, ci sono sempre i benpensanti, quelli che dicono, ma non è tutto falso, va bene, benissimo, ma allora se è tutta una montatura, tutto falso, perché c'è gente che sfida, che ha ucciso anche, perché ci sono state delle morte, degli omicidi, eh, legati al relle château. Perché sfidano tutto questo se non c'è nulla? Ti dicevo, Sonnier probabilmente, io dico probabilmente, trova un tesoro o materiale o spirituale. Se è un tesoro materiale, a mio avviso è molto legato a un discorso alchemico, e ti spiego perché. Lo stesso parallelismo lo faccio con una mia scoperta, di cui vado fiero, che è ad Altar, in provincia di Savona, in Italia ovviamente, dove c'è un parroco che più o meno negli stessi anni di Sonnier, che io tratto in questo libro, Luoghi misteriosi, appena uscito, ebbene, che presenterò da te in anteprima, e poi. Ebbene, questo parroco, se ho a Bertolotti, diventa ricchissimo, molto, molto ricco, praticamente miliardario in euro, se vogliamo dire, e era poverissimo come Sonnier. Mi piace, nelle mie indagini, fare questa ricerca. Chi c'era prima di Sonnier, chi c'era prima di Bertolotti, chi c'era dopo? Allora, prima di Sonnier c'era un parroco normalissimo, dopo Sonnier lo stesso. Prima di Bertolotti ad Altar c'era un parroco che addirittura va a morire nell'ospizio dei poveri, e dopo addirittura un parroco che va a casa della sorella che lo ospitava. Quindi, se c'era una ricchezza nella chiesa, se la sono portata via questi parroci, o almeno l'hanno investita loro. Ebbene, Bertolotti e Sonnier deve restare a Rele Chateau anche quando, a un certo punto, non c'è più un vescovo normano. Questo è importante, il rapporto con la Normandia. La Normandia è legata a Rele Chateau perché nel 1830 un vescovo normano, che era vescovo di Carcassonne, parte e va a Rele Chateau. Voi mi direte, vabbè, ma perché ciò dice? Oggi i vescovi si muovono, ma nel 1830 spesso non uscivano dai palazzi vescovili. Perché un vescovo si fa 50 chilometri in carrozza, strade fangose, non asfaltate, per andare in un paese di caprai, di pecorai, di 70-80 abitanti? C'è un mistero legato alla Normandia per cui il suo successore si chiama Félix Arsène Biard e sarà il vescovo che vuole Beragier Sonnier a Rele Chateau. E ti dico perché. Perché prima lo manda a Alele Ben, che è un paese vicino sotto nella vallata, un paese con una cattedrale dove c'è una casa di parenti di Nostradamus, delle cose bellissime, veramente un paese molto intrigante, affascinante, dove c'è una grande cattedrale che ha, cattolica, che ha come finestre la stella di Davide, simbolo ebraico. Poi lo manda a Leclat. Leclat è un paese dove non c'è praticamente nulla, io ci vado ogni tanto, è in cima una montagna che guarda verso il Principato di Andorra, montagne dietro, montagne davanti, montagne a sinistra. Lì veramente ogni casa ha una parabola della TV perché lì o guardi la TV o ti spari, non c'è niente, non c'è nulla. Figuriamoci nell'Ottocento a Sonnier. La cosa strana è che nel 1960 crolla la canonica di Leclat dove viveva Sonnier, ovviamente Sonnier muore nel 17 dove diciamo circa 60 anni prima viveva Sonnier. Ebbene crolla questa canonica, i gendarmi locali che sono i carabiniere, diciamo un maresciallo locale, vede arrivare da Parigi dei gendarmeria che prendono il caso loro e dicono no ci pensiamo noi. Questi marescialli, questi appuntati, pensa non so se succede in un paesino, in Gallia, che l'appuntato locale vede un generale da Roma che dice no me ne occupo io di un furto di galline. E lì avvenne più o meno la stessa cosa. Mai nessuno ha capito, si sono mossi dei generali da Parigi per una canonica quattro pietre crollata. Forse perché cercavano qualcosa che aveva lasciato Sonnier 60-70 anni. Dopo Leclat, Beraget Sonnier va a Rennes-le-Chateau, arriva il primo giugno e qua inizia la sua leggenda. Sonnier-Chateau cambia completamente tutto, arriva che il paese in sfacelo, la chiesa sta crollando, chiede degli spiccioli per dei restauri. E qua ci sono due ipotesi. Una, a mio avviso, che va nel cimitero e trova la lapide di una Marchesa morta cento anni prima, più o meno, nel 1781, che ha un'iscrizione su cui è scritto, qui già c'è la maride negra d'Hotpul e Blanchefort. Attenzione, Hotpul e Blanchefort, templari e massoneria. Blanchefort era un gran maestro dei templari, Bertrand e Blanchefort, e Hotpul, Marconi de Negre d'Hotpul, era un grande massone che fonda il rito di Memphis e Miserain e il rito di Narbonne. Quindi massoneria e templarismo che si uniscono dentro questa donna, nel sangue di questa Marchesa Maria Negre, un'idea di questa grande doppia schiatta, e che ha una tomba particolare su cui vi è scritto una iscrizione strana, et in Arcadia ego, Arcadia io, e poi la parola requiescat in pace, è scritta requiescat in pace. I detrattori, un anticipo tipo qualcuno del Cica, diranno ma perché lo scultore era ignorante? È strano, è strano, scrive tutto giusto e sbaglia questo. Per isolare la parola catin, caten, catin in francese sia bacinella, ma vuole dire gergalmente anche prostituta. Allora, nel 1781, come mai, come fa un parco, scrive a fare, perché era un parco che l'ha fatta scolpire, fare scrivere sulla lapida di una Marchesa la parola prostituta. C'è qualche cosa veramente di grande. Sonnier distrugge questa lapide, la stele distrugge tutto, e ovviamente noi lo sappiamo perché poco tempo prima una persona era andato lì e l'aveva copiata, quindi se no veramente non lo sapremmo neanche noi oggi. Ebbene, da lì nasce la sua fortuna, la sua ricchezza. Altra ipotesi è quella che spostando l'altare l'avrebbe trovato cavo, un pilastro, visigoto, che si può vedere nel muleo di René. Dentro ci sarebbero state delle pergamene. Con queste pergamene è andata a Parigi nel seminario di Saint-Sulpice e da lì sarebbe nata la sua ricchezza e la sua leggenda. Ma vedi, io quasi non mi interessa il tesoro. Ci sono molti tesori. C'è il tesoro dei Templari, come dice, il tesoro dei Catari. Questa è una zona dove vivono i Catari. Infatti sulle cartine che troverai c'è scritto Paese Catar, Paese Catar, c'è scritto per delimitare questa zona. C'è il tesoro di Bianca di Castiglia, il tesoro dei Visigoti. I Visigoti fanno lo sacco di Roma, 410, portano via quello che Tito, le legioni di Tito, avevano portato via dal tempio di Re Salomone, cioè l'arca dell'Alleanza, la minorà. Basta andare a Roma e lo vedi sull'arco di Tito. I Visigoti nel 410, col sacco di Roma, portano via tutto questo. E dove le portano? Nelle loro capitali. Una era Tolosa e l'altra era Rerede, praticamente, Portorelle e Chateau. Allora, tesoro dei Visigoti, il tesoro del Tempio di Re Salomone, il tesoro di Bianca di Castiglia, sono tantissime le ipotesi. Ma io se ti posso dire la mia, quasi non mi interessa un tesoro materiale, mi interessa un tesoro spirituale. Questo è un luogo magico. Se tu vai là, devi cancellare dalla tua mente tutto quello che è la brama di Ricchia. Infatti, là vi sono interdetti, perché c'era gente che andava là, spaccava tutto, toscano, soprattutto belgi. Hanno arrestato parecchi belgi, perché andavano là e veramente... Infatti, quando vedevano le targhe rosse belge, lì erano molto arrabbiate, erano le Chateau, perché si comportavano molto male. E quindi adesso non puoi più spostare nulla. Ci sono tante cose nascoste sotto. Io ho potuto vedere, ad esempio, un grande cunitulo nella casa di un carissimo amico, Capita Rennes. Non posso dire adesso in diretta, lo dirò in privata sede, previo una somma di 309. Vabbè, niente, gratis. In privata sede di dove si trova questo cunicolo che scende nelle viscere, direi, le Chateau. Ci sono tante cunicoli sotto e qualcuno l'ho potuto anche visitare. Allora, quindi... Un tesoro alchemico, scusa. Dicevo... Vai, vai. Scusa, no, non ero dimenticato un passaggio importante. La perpetua Marie de Narnot... Vai. La perpetua Marie de Narnot diceva sempre, quando il parco muore nel 1917, lei sopravvive fino al 1953 e diceva sempre, la gente di qui cammina su loro e non lo sa. E poi un'altra frase enigmatica, con quello che ha fatto il parco si potrebbe vivere centinaia di anni ma io non lo posso toccare. In quell'io non lo posso toccare c'è un chiaro riferimento alchemico. Aveva la capacità, la conoscenza per poter arrivare a questo grande tesoro. La stessa cosa succede a Bertolotti nel paese appunto di Altare, che è un piccolo paese dell'entroterra di Ligure e Bertolotti è poverissimo, tant'è che c'è un aneddoto, lui ha due sorelle, e andavano a messa senza calze. Tu mi dirai, beh, siamo d'estate. Eh no, nell'Ottocento le donne dovevano andare col velo in testa e con le calze anche a luglio ed agosto, quando fa caldo. E il fatto che le sorelle del parroco fossero senza calze è qualcosa di scandaloso, ma testimoniava la loro povertà. Quindi Bertolotti quando arriva ad Altare è poverissimo, vive giusto con lo stipendio che gli passava la curia. Nel giro di pochi anni scopre anche lui qualcosa che diventa ricco, ricchissimo, ricco più anche di Sognè. Pensa che a un ordine di suore che gli chiedono un obolo regala un palazzo intero in centro a Savona, ai boy scout del tempo regala un palazzo intero a Torino affinché con gli affitti potessero mantenersi, c'era miliardario. Viveva come un principe rinascimentale, un uomo che pochi anni prima non aveva i soldi per comprare le calze alle sorelle. Succede una cosa stranissima, un parallelismo con Réle Chateau. Allora, a Réle Chateau ti dicevo finché c'era il vescovo normanno tutto andava bene, Sognè fai soldi a palate, fa cene, qui parleremo, ricordati delle cene, e nessuno dice nulla. Muore il vescovo normanno, il vescovo successivo de Bossejour, che non era normanno, dice ma come mai c'è un parco nella mia diocese che è più ricco di me, che sono il vescovo? E lo convoca, lo convoca nel palazzo episcopale. Sognè rifiuta di andare, un paio di volte Sognè si rifiuta proprio, se ne fregava altamente. Il parco lo sospende a Divinis, Sognè ricorre in Vaticano e vince contro il suo vescovo. Ma poi il vescovo avrà l'ultima parco, sarà un nuovo parco che salirà di remessa ai muri perché tutta la gente andava messa nella villa a Betagna, la villa del parco. Ma Sognè vuole restare lì e vuole lì. Allora, tu mi dirai Lucia, ma che gestiva miliardi e miliardi, a parte vai a Monte Carlo, Parigi, Nizza, perché restare in un paese dove il vescovo ti odia, lui deve restare lì. Bertolotti per un motivo opposto. Il re Umberto I gli dà la più alta onerificenza dell'ordine mauriziano. Fatti conto che poi Benito Mussolini farà fatica per la stessa cosa da Vittorio Emanuele III. Ma Mussolini era il padrone d'Italia, Bertolotti era il parroco, un mile parroco di un paesino. Poi Papa Pio X, motu proprio, l'omina di botto, vescovo di San Giovanni Laterano a Roma. Prima del concilio Vaticano II essere nominato vescovo di San Giovanni Laterano voleva dire essere vice Papa. Qui succede una cosa enorme, eclatante. Bertolotti dice no al suo Papa. Un parroco non può dire no al Papa, non può dire no neanche a un vescovo, figuriamoci al Papa. E poi non era Papa Francesco un Papa moderno, era Pio X, un Papa santo, d'accordo, ma che sicuramente non amava essere contraddetto. E poi soprattutto un parroco di un paesino che di botto viene nominato cardinale e vice Papa. Qualcosa di no, io penso che se fanno la proposta al tuo parroco lì a Senigallia ci vai in giro per diventare vice Papa. no. Quindi lui dice di no, perché? La lettera che manda Pio X dice non posso staccarmi dalla cura delle mie pecorelle. Eh va bene, aveva le pecorelle come le aveva sognere le Chateau, ma è qualcosa di enorme. Ti fa capire Lucia che la ricchezza era nel luogo. Se loro avessero abbandonato altare, avessero abbandonato Ren le Chateau, sarebbe finito il loro mito. Allora, hai parlato delle cene e qua chi ci ascolta dice cos'è sta cosa delle cene. Berenger Sonnier quando va a Parigi, no, per far tradurre queste pergamene comunque che ha trovato, lì entra in contatto con personaggi importanti dell'epoca e personaggi che comunque erano anche all'interno di circoli esoterici importanti. Quindi quando poi lui costruisce Villa Betania organizza questi incontri importanti dove c'era anche un membro degli Asburgo che partecipava. Quindi raccontaci un po' cosa si sa di questo. Sì. Allora, innanzitutto una piccola cosa, tanto non è pubblicità perché è un libro che purtroppo non esiste più. Nel 2006 ho scritto questo libro, Giallo Uovo, insieme ad altri autori, tra cui Loriano Machiavelli e Giorgio Faletti. Con Giorgio Faletti c'era un bel rapporto di amicizia, ci si trovava tutti gli anni a Capolivere. Abbiamo fatto questo libro in cui io ipotizzavo, erano 15 racconti, io ipotizzavo che poi l'ha mandato al maschio. Questo è un enigma, eh, Lucia. Ormai la Mondadori ha cancellato dopo pochi anni un libro molto bello, c'era anche Giorgio Faletti, eh, voglio dire. Ebbene, io ipotizzavo questo mio romanzo di fantasia che il segreto di René Le Chateau passasse per il palato, per la cucina, visto che oggi si parla tanto di cambi canale, tanto cuochi, no? Ebbene, io nel 2006 ipotizzavo questo. Era un gioco, per carità. Però mi intrigava il fatto che sia Berangier Sonnier, René Le Chateau, sia Bertotti ad Altare, fossero molto dare delle cene sontuose, particolari, con derrate alimentari molto ricercate e molto care. Per fare un esempio, in queste cene si serviva rum della Martinica, caviale del Volga, carni prelibate, pregiate. E chi erano i commensari? Erano grandi personaggi, non erano i paesi, non erano i suoi compaesani. Tra questi c'era l'arciduca d'Austria, Stefano d'Asburgo, che dopo l'ecidio di Meierling, quando Rodolfo si suicidava, lì è un mistero, lascia l'Austria e va a René Le Chateau. Ne abbiamo dei verbali dei gendarmi, perché vedono una carrozza degli Asburgo, se non so se un paesino qua in Italia arriva un parente, ne so, di Donald Trump, l'uomo più potente al mondo, non so, di Putin, dicono come mai viene qua. Ebbene, un Asburgo va a René Le Chateau. Ma poi c'è anche, ci sono altri personaggi molto sottili. Uno, ad esempio, è Maurice Leblanc, l'autore di Arsenio Lupin, normanno, anche lui, dalla Normandia, che in ogni romanzo di Lupin ci sono dei passaggi che riportano invece al sud della Francia, René Le Chateau. L'altro è Jules Verne. Jules Verne ha scritto un libro che io sono riuscito a trovare con difficoltà, ma molto... Lo vi d'Ardentor, nel quale ci sono dei passaggi molto intriganti. Il capitano della nave che conduce la nave fino in Algeria si chiama Bougarache. Bougarache è una montagna misteriosissima che è vicino a René Le Chateau, di cui parleremo dopo. Lui a un certo punto si menziona un certo signore che si chiama Arago e dice Arago, Arago, lo esalta. Arago era un signore nato all'Estagel, vicino a René Le Chateau, e conosceva Berangé e Sonia, e quindi probabilmente era anche lui a fine. Vi faccio una domanda, come fa nel film Il Codice da Vinci Tom Hanks a trovare la tomba di Maria Maddalena? Seguendo dei medaglioni che sono sul pavimento di Parigi e ci sono, subito la parola Arago, perché Arago era il direttore dell'osservatorio astronomico di Parigi e quindi era un personaggio realmente esistito, ed era di un paese di René Le Chateau. Quindi Jules Verne, Maurice Leblanc, Arago, si parla anche della cantante lirica Emma Calvé, una famosissima soprano, ma veramente i personaggi che entrano in questa vicenda sono veramente tanti, ma soltanto, se fosse andato soltanto Stefano d'Asburgo, come mai un Asburgo si attraversa metà Europa, tra l'altro l'Austria e la Francia si odiavano visceralmente, per andare a fare una cena, perché non aveva la corte di Vienna aderrata e quello che voleva, quindi queste cene erano qualcosa di... Le stesse cene molto sontuose le troveremo ad altare per opera di Monsignor Bertolotti. Io ho conosciuto la nipote del suo uomo di fiducia che mi ha convocato anni fa a casa sua, adesso è mancata questa signora, e mi ha detto, guardi, mi aveva visto in tv con Giacobbe, con Berrino, e mi ha detto, guardi, le voglio raccontare questo aneddoto, perché mio nonno era l'uomo di fiducia del parroco Bertolotti, e il parroco Bertolotti lo mandava tutte le settimane al porto di Savona a comprare delle derate alimentari preggiatissime, come caviale del Volga, rum della Martinica, sigare cubane e quant'altro, per queste cene sontuose. E soprattutto olio, tanto, tanto olio d'oliva. Perché? Perché avevo una ricetta che me l'ha mostrata, il pollo all'olio, ossia riempiva una pentola di olio e ci faceva cuocere dentro un pollo come se fosse nell'acqua bollente. Non mi chiedere che gusto avesse, comunque ti dico che nell'Ottocento sprecare una pentola d'olio era qualcosa di enorme, tant'è che si diceva che se si rompeva una bottiglia d'olio portava male. Non è che portava male, è che era talmente caro che rompeva un'uscita di testa. E questo parroco ne buttava via litri, litri e toliti per cuocerci un pollo. Quindi il segreto passa anche a cucina. Allora, abbiamo quindi accennato all'importanza che hanno i numeri a Ren le Chateau. Cosa ci puoi dire riguardo a questo? Quindi a delle date importanti che ricorrono? E poi magari parliamo anche, appunto, ci dicevi di questo segreto alchemico. Magari in qualche luogo, tipo non so, la Chiesa, qualche situazione particolare che ci può riportare a queste conoscenze esoteriche particolari che a quanto pare la Bessoniera aveva. Quindi ecco, i numeri e le parole. Allora, i numeri essenzialmente sono due. Il 17, che è il 17 di gennaio, è una data simbolica in cui avviene tutto. Muore la Marchesa de Negri, Beragia Sonia è lo stesso, praticamente muore il 17 perché ha un attacco, un emoraggio cerebrale, poi morirà il 22. Il 22 sono i gradini che portano la Tur Magdala, 22 sono i denti del teschio che c'è sopra il cimitero. C'era sempre questo del numero 22. Lui era fissato con alcuni numeri, alcune lettere, ad esempio la sua croce, la vera croce del cimitero, come ho detto, era una croce di fattura templare, di pietra grezza, con la scritta Enri e la N girata al contrario. Ebbene, io l'ho trovato in una chiesa vicino ad Altara, Saliceto, provincia di Cuneo, ne occupo nel mio ultimo libro, come ho detto, luoghi misteriosi, perché in questa chiesa c'è una via crucis messa al contrario, come a Rele Chateau, come ad Altare, caso strano, i detrattori dicono sbaglio, caso strano le via crucis normalmente sono in senso orario, queste sono in senso anti-orario, caso strano. E anche in questo caso abbiamo delle strane anomalie nella via cruci, soprattutto nella quattordicesima stazione. A Rele Chateau si vede un buio cielo notturno e un personaggio, tra cui Giuseppe e Maddalena, che portano dentro o fuori da una tomba Gesù. Ma perché di notte? Non era chiaro, non ha scritto che erano di giorno, cioè difficilmente si faceva questo di notte. E nell'ultima stazione, Barangersonier vuole espressamente che ci sia questa immagine notturna. Nella chiesa di Saliceto, nella via crucis girata al contrario, ci sono altri pari intriganti, c'è una, che l'ho scoperto appunto io, una cosa di cui vado fiero, la scritta Inri nella tredicesima stazione, solo in quella, con la N girata al contrario. Non si venga a dire che il pittore era ignorante, perché in tutte è scritta giusta, solo nella tredicesima la N è messa al contrario. Ci sono poi cose molto stesse, Giuseppe d'Arimatea che ha sei dita nella mano destra e con il sesto dito piegato indica i chiodi che ha usato appunto per crocifiggere Gesù, che galleggiano nel Lazio, dalla via crucis, e il carteggio appunto Inri con la N girata al contrario. La numerologia entra in modo preponderante, ne ho trattato molto nel mio primo libro, che è appunto questo, un libro che è un classico, l'Enigma di Ray Le Chateau, che è giunta alla quinta edizione con le edizioni mediterranee, dove dedico un intero capitolo a Inri alla numerologia. Per non tediare chi ci ascolta, perché nel dettaglio guarda ci ho speso una trentina di pagine su questo, Sonnier aveva una cura maniacale per questi aspetti, sia per alcune iscrizioni. È stato trovato nelle sue carte personali una sorta di scrittura stranissima con delle lettere a casaccio, che però non erano a casaccio, ma soprattutto probabilmente non era farina del suo sacco, ma era della parroco Boudet, il parroco di Rennes-le-Bain, che è un paese che sorge nelle vicinanze, nella vallata. Allora, Boudet sarebbe da scriverci un libro su questo parro, veramente di Ray Le Chateau. Fatti conto che scrive un libro che si chiama L'Avrelon Celtic e il Cromlec di Rennes-le-Bain, in cui ci sono delle stupidaggini. Lui dice che tutte le lingue derivate, l'inglese derivano dal tedesco, antico, se vogliamo, però tutte le lingue nascono dall'inglese, e poi mette dei numeri a casaccio, ma in realtà questi numeri sono delle terme, ci sono delle fonti d'acqua sia calde che fredde. Ebbene, lui mette i gradi di quest'acqua, ma non sono gradi dell'acqua, sono gradi da leggere su una topografica. E ti dirò di più, se tu vai nel cimitero di Rennes-le-Bain, io ho avuto ancora la fortuna di vedere la testa della Cap de l'Homme, una testa che era stata trovata in cima a un menhir, Boudet aveva staccato e aveva fatto incementare sul muro della chiesa esterna, ma poi l'alluvione del 1994 l'ha portata via. Per fortuna una foto. E c'è una tomba, un signore che è morto, un nobile che ha due tomba, quindi in una non c'è lui. Un altro, il paroco prima di Boudet, che si chiamava Jean-Vier, Jean-Vier vuol anche dire Gennaro, lui cambia le date di morte e lo fa morire il primo settembre e quella data primo settembre la scrive, R mette un 1, R, settembre mette un 7, c'era lo spazio per scrivere septembre, no, lui mette un 7 e la tomba si legge 17, Jean-Vier, 17 gennaio e lui non era morto, non era morto il primo di febbraio, ma il paroco ha voluto cambiare la lapide e sopra al posto della croce ha messo un mirino, come se fosse un puntatore per un cannone, che purtroppo qualcuno ha distrutto, perché come ti dicevo prima, io ho tante cose che oggi purtroppo non ci sono più, soprattutto questi belgi hanno spaccato, hanno rubato, veramente sono state delle azioni molto, e c'è gente che ha anche ucciso. Ti dicevo prima la perpetua Marie de Narnot, la perpetua di Sonier che muore nel 1953, la scerede, un signore che si chiama Noël Corboux. Corboux aveva una piccola azienda che non andava molto bene e un giorno lei gli dice, non si preoccupi signor Corboux perché io le rivelerò un segreto che la renderà immensamente ricco. Corboux dice, caspita, ma purtroppo lei ha un colpo apopletico e lui mette un registricino per registrare le parole, ma lei dice delle parole, vuole svelare il segreto di Sonier. Io guarda, c'ho un nervoso quando sento queste cose e dirà, potrei essere andati lì cinque minuti prima, no? Invece no, non puoi parlare e lascia su questa cassetta, su questa cassetta, delle frasi senza senso. Ma forse un senso l'avevano? Probabilmente l'avevano, perché Corboux inizia a fare delle ricerche degli scavi, l'ho visto io con i miei occhi, ma si vede che ha toccato qualcosa che non doveva toccare. Un giorno si schianta con la sua Renault 6 contro un camion. Scopriranno i gendarmi che avevano tagliato i freddi per un omicidio, quindi. Non sarà l'unico. L'anno seguente tre giovani scrittori scrivono un libro che si chiama Les Serpents Rouges, di Serpente Rosso, che è una sorta di ballata che parla di Re Les Chateaux, parla di Maria Maddalena, parla dei Merovingi. I Merovingi si credevano appunto fosse la schiatta di Gesù, no? Gesù sposa Maria Maddalena e da lì nasce una generazione che si chiamano i Merovingi. Ebbene, questi tre scrittori in un giorno si impiccano praticamente tutti e tre in diretta. Come mai tre giovani autori si devono impiccare in diretta? Hanno semplicemente messo, come è successo con il caso Calvi, gli ha messo un capio al collo. Ma non è l'unico omicidio. Nel 1896 un amico di Soniera viene assassinato nella sua canonica e gli trovano tantissimi soldi. Quindi chi lo ha ucciso non voleva il denaro. Io ho ancora avuto la fortuna di vedere il luogo con ancora tutte le cose sparpagliate sue. E c'era una cosa che mi aveva colpito molto, che avevo fotografato, una sorta di stella di Davide. Ma non è una stella di Davide, sono due triangoli sovrapposti, un simbolo vista. Perché un parco dell'Ottacento senza la necessità di lasciare come ultimo messaggio prima di morire un simbolo del martinismo? Anche lui muore ricco e i soldi in canonica, quindi non volevano i soldi. Un ultimo delitto avviene nel 1974 quando una signora a Parigi comincia ad avere paura, si sente pedinata, ma la prendono così, dicono ma sì magari si è inventato tutto. Invece no, verrà assassinata nel suo appartamento di Parigi. Questa signora da bambina andava a casa di Sognete della Perpetua e Sognete aveva regalato un anello con una pietra blu. Probabilmente 70 anni dopo l'hanno uccisa per questo. Quindi c'è gente anche ad uccidere in questo grande enigma che è Ren. Ma anche ad altare ci sono stati dei casi intriganti. Quindi è pericoloso andare a mettere il naso dentro Ren. Le chateau, attenzione. Probabilmente prima c'era qualcuno a cui non aveva piacere che si scavasse, che si toccasse. Probabilmente è stato portato via, doveva essere occultato, è stato portato via. Quindi comunque c'è qualcosa di fisicamente esistente. Cioè tu dicevi non è un tesoro in monete d'oro, è una cosa più alchemica. Però potrebbe essere un oggetto? Ma guarda, io ti dico la verità, quasi non mi interessa il tesoro materiale. Perché come ho detto c'erano tante ipotesi, Templari, Catari, Bianca di Castiglia, il tesoro dei Visigoti, qualcosa ha trovato. Ma questa luna di magia, cioè io sono andato a Ren cento volte, credo, ho portato gruppi di persone, ho portato tantissima gente là. Quello che mi colpisce ogni volta che ci vado, dal 1986, da un po' di anni ecco, tu non eri neanche nata quando andavo là. E la luna di magia, questo mistero che è nell'acqua, è nell'aria, in quella terra rossa che si vede salendo su. È un luogo dell'anima. E le ipotesi sul tesoro sono tante. C'è anche l'ipotesi che si dice che lui ricattasse il Vaticano, che sia dei nobili, perché lui era molto legato alla nobiltà, alla monarchia. E quindi probabilmente persone legate alla monarchia che potevano anche finanziarlo, sicuramente. Ma quello che colpisce, ad esempio, di Bertolotti ad Altare è che lui riceveva tutti i mesi, finché era un assegno molto, molto cospicuo, che arrivava dalla Francia. Quindi c'è sempre un mistero che dalla Francia, come un filo rosso, un fiume soleraneo, scorre sotto la superficie e parte da Réle Chateau, da questo luogo dei Pirenei, e arriva anche in Valborvide, in Italia, in quei luoghi che ho trattato nel mio ultimo libro. Prima hai accennato a un fenomeno ottico particolare che accade in data 17 gennaio, se non sbaglio. Ci vuoi dire che cosa accade. Sì, esatto. Questo non è un magico, è un proprio voluto. Soniai paga un mastro vetraio, un refer, una vetrata che è posta dietro appunto dove c'è il stato di Maria Maddalena, di San Rocco, per cui in una sola giornata all'anno, che è il 17 gennaio, se c'è il solo vi proietta dentro la chiesa una figura di luce che assume le sembianze di un albero di mele blu. Infatti lo chiamano la giornata delle mele blu. Io l'ho vista diverse volte, ad esempio, mi piace farti vedere questa mia, che sono davanti alla tour Magdala nel 1987, era il 17 gennaio, un po' più giovane, un po' più magro, ebbene, potete ancora vedere tante cose. Ebbene, l'ho visto tante volte questo fenomeno ottico, addirittura l'ultima volta c'era una troupe della TV, pensa, della Nuova Zelanda. Sono partiti, hanno attraversato il mondo, per venire a fotografare questo fenomeno ottico che ha voluto Soniai, che prima veniva anche in un'altra chiesa che è Saint-Sulpice, la famosa cattedrale di Parigi, dove lui porta a decifrare le pergamene. Questo fenomeno ottico avviene? Bravo, bravo, bravo. Vedi, l'altura, hanno fatto qualche cambiamento, aspetta, piccole cose, ad esempio, nei tempi non c'erano quelle cose di metallo, c'era ancora la scaletta, vedi, vedi, vedi. La scaletta poi l'hanno rimessa, vedi, la scaletta che porta nella torre, e questi semplici, queste cose, questi diciamo rafforzamenti di metallo, li hanno messo poi recentemente. E ti dico, c'è anche in una chiesa a Brenac, che ho scoperto io il 17 geni, dove era passato anche Soniai, un fenomeno ottico analogo, non bello come quello di Relle Chateau. E' voluto da lui, facendo costruire questa vetrata che proprio in giornate, solo in quella giornata, avviene. Ma questo ci riporta a Dante Alighieri, perché? Le statue nella chiesa, beh, a parte il demone, allora sull'entrata c'è scritto questo luogo terribile, come nella Genesi, no? Un Giacobbe che si addormente vende schiere di angeli, quindi dice come è tremendo questo luogo. Dentro la riprova mette il demone a smodere, come dicevo, l'hanno distrutto due volte, vabbè, è la terza volta che lo rifanno, e poi mette delle statue di Santi, Santa Germana di Pibrac, San Rocco, che ha la ferita sulla gamba destra, non sinistra, tant'è che in un mio libro che poi sarà rieditato, l'ho intitolato Lo specchio inverso, che adesso è fuori il catalogo, ma sarà ristampato poi, proprio perché era lasciato ora un'immagine speculare, uno specchio inverso. Poi c'è Sant'Antonio Abate, che è il santo del 17 gennaio, Sant'Antonio da Padova, poi inverte gli evangelisti, al posto di, Mario, Marco, Luca, Giovanni, al posto di Giovanni mette Luca, Germana, Rocco, Antonio, Antonio, Luca, Gallo. Giovanni era Greg, andava bene per i fumetti. E se tu prendi una matite e unisci le statue dei Santi della Chiesa, si forma una lettera M, e al centro dell'M, il 17 gennaio, avviene proprio questo fenomeno. Mi porta a Dante Alighieri, che nel canto del Paradiso parla degli angeli, che appunto creano delle lettere luminose, e la lettera più luminosa è la M, e il centro dell'M è la lettera più luminosa. Allora Sonia ha voluto prendere spunto da Dante Alighieri per far centro di quell'M dei Santi, il 17 gennaio avvenisse questo fenomeno di grande luminosità, una luce dei misteri. E all'interno sempre della Chiesa, dedicata, come abbiamo detto a Maria Maddalena, possiamo vedere anche un pavimento molto particolare, che ci ricorda qualche bell'evento. Una schiacchia, sì, certo. E anche... Sì, certo, un pavimento che troviamo nel soffitto. Nel soffitto abbiamo un soffitto blu con delle stelle, la stessa cosa che abbiamo nelle loggie, pavimento a... io tra l'altro ho fatto diverse conferenze in loggie massoniche, sia del Grand Oriente d'Italia, che è dalla Gran Loggia, come ospite ovviamente, e quindi ho potuto vedere con i miei occhi che questo avviene, cioè questo pavimento a scacchiera e questa volta con questo cielo stellato. Rifaccio vedere un attimo... Dicevo, Marie de Negr, la nobildonna di Rennes-le-Chapelle in karma, templari e grandi riti massonici. Volevo rifar vedere un secondo la quattordicesima stazione della Via Crucis perché aveva colpito molto anche me proprio per questo sfondo notturno, perché noi sappiamo che Gesù è stato portato, c'è morto alle tre del pomeriggio... Sì, una luna... La notte non ci viene... L'Evangelia appunto non c'è scritto, bravo, bravo, ma viene quasi da pensare allora che viene portato via dalla tomba... Vivo? Quindi portato dentro o portato fuori dalla tomba? E quindi Sognié avrebbe scoperto qualcosa che metteva in pericolo il fatto della ressurrezione, il fatto su cui si basa la chiesa di Roma e quindi la chiesa di Roma ha pagato, anche questa è un'ipotesi. E' anche interessante questi dadi che vediamo nella scena in cui i soldati sono stati dadi. Anche qua c'è da spiegare. Le trucano alla tunica, esatto, esatto. E anche se sei nell'ottava stazione vedrai che c'è un bambino avvolto di stoffa scozzese, il figlio della vedova, i massoni si chiamano figli della vedova e la Scozia entra con il rito scozzese antico e accettato. Quindi un altro riferimento. Un'altra cosa interessante all'interno, che avevo fatto caso, era sopra il confessionale che c'è questo... cos'è? Un altro rilievo, un dipinto, adesso non mi ricordo bene. Sì, è il Monte delle Beatitudini, il Monte delle Beatitudini, si vede in primo piano un sacco di fiori, le rose, sì esatto, c'è un numero particolare, le rose con la croce e c'è solo un numero di fiori, sì esatto. E poi se tu guardi lo sfondo sulla destra e sulla sinistra cambia radicalmente il paesaggio. Quindi ci sono veramente tanti tanti particolari, veramente ogni luogo di quella chiesa, ogni angolo ci troviamo degli elementi come se veramente la Bessonnier avesse voluto lasciarci comunque dei messaggi, anche perché lui ha proprio supervisionato tutta la costruzione anche sulla Tur Magdala, lui ha supervisionato, no? Tutta, tutta, assolutamente. E ha strapagato ad esempio gli architetti muratori che hanno fatto la Tur Magdala. La Tur Magdala, il luogo dove lui praticamente, che poi morirà, dove era portato da morto, era il suo simbolo, la sua biblioteca, il suo buon ritiro, come si dice, non doveva essere lì, doveva essere spostato mi sembra di una cinquantina di metri. L'architetto gli dice, guardi che qui c'è roccia viva sotto, eravamo 120 anni fa, 120 e più anni fa e non c'erano gli scavatori di oggi, ma lui era immovibile, no? Doveva essere, la Tur Magdala doveva essere in quel posto perché lì vedeva tutto ed era visto anche dalla vallata, c'è un qualche cosa che lo lega a quel punto preciso. E come ti dicevo, lo scrittore che mi dava la casa, si chiama Graham Simmons, aveva comprato dei terreni sotto la Tur Magdala e mi ha portato a vedere che ci sono molti pozzi, veramente alcuni molto più, con dei cunicoli che poi entrano dentro, sotto la Tur Magdala, vanno verso il castello. c'è anche il famoso castello, il fatto si chiama Renly Chateau, Renly il castello, un castello che ha una visigota stupenda, che chi l'ha vista è rimasta bocca aperta, veramente bello. Purtroppo hanno portato via molte cose anche da lì, dagli anni 80, 70, 80. Va sotto la chiesa. Perché sotto la chiesa? Perché sotto la chiesa c'è una stanza vuota e dobbiamo dire grazie di questa un cane. Un cane si perde, il padrone lo cerca, lo chiama e il cane gli risponde e abbagna da sotto la chiesa. Hanno scavato e però hanno trovato che sotto la chiesa c'era una stanza vuota, come c'è anche sotto la Tur Magdala, hanno trovato questo. Però sai cos'è? Che poi hanno riempito tutto. C'è stato un po' un periodo in cui si preferiva occultare, nascondere, buttare detriti dentro. A mio avviso hanno fatto un grave danno perché avremmo avuto delle grandi risposte alle grandi domande. Un po' come anche i scavi adesso in Normandia, a Gisor, ci sono stata l'anno scorso, perché anche a me piace seguire queste tracce. Ma Gisor. Anche lì si parlava di una cripta con dentro, insomma, anche lì si ricollegava a questo tesoro del Blanche di Castiglia. Però ecco, anche lì è stato poi scavato, mi è stato detto che non c'era niente, chiuso tutto e mi pare, no? Quindi, sì, sì, sì. Quella è un'altra storia interessante. L'hanno scoperto un titolo, poi ha detto che era ubriaco, no? Che ha trovato questi titoli. L'hanno detto addirittura che l'hanno rubato, so che c'era stato un problema. E non sono più riusciti a trovare la vera entrata. Lui ha detto che ha giurato fino alla fine, fino alla morte, di questa cosa enorme, un deposito torno è pazzesco. Io, ad esempio, ho un amico di Relle Chateau, un carissimo amico che abita a Punta Rennes, si chiama Serge, che è riuscito ad entrare dentro il castello e scendere anche nei sotterari. C'è una sala con armi antichissime. Mi ha detto qualcosa di impressionante, elmi, alabarde, però anche lì va a sapere oggi tutto questo dove è finito. Quando poi se ne comincia a parlare, purtroppo le cose spariscono. Poi c'è anche questa stanza segreta, diciamo, cos'è, dietro la sacrestia, se riesci a vedere. Ho visto, certo. Allora, in quella stanza, sì, sono entrato. Sì, sì, esatto. Oggi non ci si può più entrare. Ai miei tempi ci si andava. Hanno bucato il vetro? C'era un buco. Ah, addirittura. No, io ero entrato con Faten, con, no, con Faten, scusa, con, sì, con il Faten al proprietarello, con Bution, ecco, con Harry Bution. Mi ha fatto vedere tutto dentro la chiesa e mi ha fatto vedere questa stanza. Dunque, lì dove hai visto quella finestrella, c'era una stanza dove sogni e si cambiava. C'era una bambola con capelli umani, pensa, eh. Poi intanto c'era una porta e dietro c'era uno stanzino per un metro per un metro, ma quando ci sono entrato io era pieno di niente, di sporcizia, di detriti. Anche lì probabilmente qualcuno era entrato e aveva fatto già un ambassa, nel 1980, eh. Quindi figuriamoci adesso. Adesso non puoi più vedere nulla, giusto, con la chiesa. Poi a Smodèo gli hanno messo una parete di plexiglass davanti come se fosse il Covid, perché temono che qualcuno spacchi, lo spacchi di nuovo. Sì, quando sono andata io nel 2018 era senza testa. Villa Betania, poi non ne parliamo. Una stanza sola, Villa Betania. Brava, brava. Adesso l'hanno... Esatto, le riprese che abbiamo fatto adesso le hanno rimesse a posto anche l'anno scorso, già nel 2018, ero stato anche l'anno scorso, come ho portato un gruppo di persone. Ma ti dico, non è più l'originale, ecco. Un fascino particolarissimo, particolarissimo. E poi ti dico, c'è Villa Betania. Villa Betania l'ho vista tutta. C'erano delle stanze molto belle con dei quadri. Oggi lascia vedere, è giusto una stanza musica che gira. c'è un pianoforte, no? Ma veramente, mi dispiace molto che abbiano deciso di chiudere veramente quasi tutto. Quello è un peccato. È vero, è vero. Perché comunque i luoghi, le ripeto, sono molto, molto, non lo so, evocativi e affascinanti. Io mi è caduto un fatto particolare perché non conoscevo, mea culpa, il Pic del Bugarash. Non lo conoscevo. E quando sono, nello stesso giorno che sono stata nelle Chateau, poi noi eravamo in macchina, allontanandoci, facendo un giro, io vedo questa montagna strana. E dico, questa montagna è strana. Mi dava una stranissima sensazione. Poi non è che sono suggestionabile. Ho visto una montagna strana. Ho guardato sul navigatore e ho visto Pic del Bugarash. Vado a vedere su Google e trovo di tutto, di più su questa montagna. E ci siamo quindi avvicinati, siamo andati sotto. Io devo dire che sentivo veramente una, come un, questa montagna ha un alto magnetismo, non lo so. C'è qualcosa di importante. Cosa ci può raccontare del Pic del Bugarash? Hai centrato in pieno. Allora, Bugarash, assolutamente, è una cosa che mi interessa molto. Innanzitutto, come ti ho detto, Gilles Verne chiama Bugarash il marinaio che porta questa nave. Come mai? Bugarash. Gilles Verne era bretto, se non sbaglio, si era dalla Bretagna, non era certo della zona. Ebbene, il Bugarash è una montagna strana. È la montagna degli UFO, che in Francia chiamano ovni, no? Oggetti volanti non identificati. È una montagna ufologica. È una montagna di sparizioni. È una montagna dove ci sono dei fenomeni di spazio-tempo particolari. Esatto, bravo. Quella che si intravede lì. Sembra un viso che guarda verso il cielo, guarda verso le pitelle. E tu devi vedere, però, attenzione, nella parte in basso, in basso, c'è un sentiero. Io, tra l'altro, ho portato decine e decine di gruppi. Ah, tra l'altro, apro una parentesi, organizzo anche Covid permettendo viaggiare nelle shot. Quindi, chissato, puoi seguire i miei blog o semplicemente scrivi una mail. La mia mail è semplicissima. Nome e cognome, giorgiobaglietti, chiocciola, chiamiamola chiocciola, gmail.com. Quindi, nome e cognome, gmail.com. Mi può scrivere e io gli risponderò. E organizzo viaggiare alle chateau facendogli vedere la vera, i veri luoghi dell'enigma. Ovviamente devi venire anche tu. Ovviamente, no, no, guarda, io punto. Al Bougarash, cioè, assolutamente, c'è un sentiero che passa sotto, che circonda la montagna, finire alle cascate di Maria Maddalena. Allora, questo è un sentiero magico. Io non ti voglio anticipare nulla, perché voglio che poi lo senti con te stessa. Allora, io l'ho fatto tante volte. Io una volta sentivo un ronzio talmente forte in testa, che c'era uno davanti a me con lo zaino, e dicevo, ma si vede che avrà una raggio trasmittente potente, che mi dà sto mal di testa. Allora l'ho fermato, ma l'ho aperto, avevo un panino, una maglia, non c'era assolutamente nulla. Un ronzio pazzesco. Una signora che era con noi, ti ripeto, una donna di 70 anni, è quasi, ha detto, ma dove sono quei bambini che cantano? Io non li sentivo. Altri dicevano, dove è la musica? Qualcuno anche non ha sentito nulla, eh. Però, ti ripeto, la sensazione è che lì c'è un qualche cosa, e lo fercorevano i catari. Attento, quella coppia che non ha sentito, era una coppia, non ha sentito nulla, poco dopo si sono separati. Probabilmente tra loro c'era già odio, dissidio, e quindi probabilmente la loro mente era occupata da altre cose. Noi tutti abbiamo provato qualcosa. Io ci ho portato, anche i scettici, non dico nulla, un classico ingegnere, di quelli che uno più uno fa due, c'è che tutto, no? E si è ricreduto, perché mi ha detto, ma io sentivo dei suoni, sentivo delle cani, e non c'è assolutamente nulla. C'è un sentiero, c'è un bosco, e c'è una grande montagna sulla sinistra. È una montagna dove ci sono state delle sparizioni, dei fenomeni che sono successi con la mia carissima amica. Era andata lì, erano 12 persone, sottolineo, 12 persone, e partono, vanno, io sono stato fino in cima anche io diverse volte, sono 1300 metri, più o meno alto come Monsegur, è lo stesso livello di Monsegur, che è un altro luogo magico nella zona. Ebbene, lì salgono, all'inizio c'è una signora seduta davanti a casa, fa l'uncinetto, e l'aveva fatto, metti, due centimetri. Loro salgono, in cima a questa montagna, ripeto, di 1300 metri, quindi ce ne vuole a salire, c'è un campo bellissimo in cima, dove vedi praticamente il mare, vedi tutte le fortezze catare di Queribus, di Puy-la-Ran, di Pellar-Pertuse, vedi fino a Monsegur, stupendo, era su in cima. Ebbene, giocano, mangiano, qualcuno fa un pisolino, scendono dalla montagna, e lei è colpita da questa signora che era sempre lì. Guardano gli oro, sono stati 12 minuti, figurati, 12 minuti per salire, 1300, cucinare, mangiare, giocare, dormire, 12 minuti. Eppure, io ho in tutti, e 12 queste persone, e tutti i miei, anzi, non hanno voluto che lasciarmi il nome, ho detto, no, no, perché poi, quindi, io ti dico questo, Lucia, se uno mi vuole ingannare, mi dice, sì, sì, lo metto sul mio libro, mi dà 1000 euro, no? E quindi, come dire, no, ci guadagna, ma lì assolutamente non hanno guadagnato nulla, non hanno voluto apparire, quindi, assurdi, perché prendere in giro? Siamo presi in giro, è finita lì, però tutti e 12 hanno dato la stessa identica versione. Vabbè, facciamo finta che questo è un gioco. Con Marco, con l'amico Marco Berri, in giro 12, la truppa è mandata a, di mistero, a Bugarash, perché il paese di Bugarash, il paese che si chiama Bugarash, sotto la montagna, si diceva che secondo il calendario mai, non si è comparsa, E tant'è che oggi a Bugarash, tu senti parlare più inglese che in francese, perché neozelandesi, australiani, americani, inglesi, hanno comprato le case lì. La fine del mondo non c'è stato, però le case l'hanno tenute lo stesso, perché si sta molto bene. Volevo comprare anch'io una casa, ma dopo, ebbene, anzi, magari la compriam insieme. Mettiamo la libreria, la libreria, equilibri la. Ce ne sono due a due, ah no, a Rennes però ce ne sono due. Ebbene, non ho a Rennes, ma sono i miei amici, quelli di Rennes, quindi vai tranquilla a Rennes, la Porte de Rennes, sono carissimi amici, e Clelie e Delen, che si è avuto, se mi vedo. ebbene, a Bugarash, appunto, la troupe di Italia 1, quindi con i mezzi di Mediaset, non una tv, come dire, da due soldi. Allora, mi ha contato Marco, ci diamo del tu, siamo amici, allora, tutte le telecamere si sono rotte, tutte, tutti i telefonini rotti, hanno fatto un servizio, andando a casa il sindaco, che gli ha permesso, col telefono, sai, quelli a Rotella, di chiamare Colonio Monzese, la sede di Mediaset, e fare un resoconto oral, dicendo, guarda, non c'è stata, c'è gente fuori, che fanno balli, che fanno rituali, ok, ma non hanno potuto far vedere l'immagine, perché si è tutto rotto. Anche questo, sono i misteri del Bugarash. Io invito veramente, a chi vuole scrivermi, a contattarmi in privato, come dicevo sulla mia mail, e poi veramente, chi vuole andare, probabilmente, già quest'anno, magari, verso se, organizzare un viaggio, e vi farei vedere, toccare con mano, questi grandi enigmi. Come ce n'è un altro, ad esempio, vi dicevo di Boudet, allora, Boudet, amava girare, sull'amico di Sonniere, sulle montagne, intorno a Rennes-le-Château, a Rennes-le-Bain, e alzare, o abbattere, dei menhir, ci sono dei menhir, ce n'è uno, potentissimo, sopra, a L'Ele-Bain, dove c'è i Templari, costruire una chiesa, dai Cagò. Allora, i Cagò era una popolazione che avevano le mani e i piedi palmati, e venivano considerati lebrosi, ma non erano le, perché la lebra te le distrugge, le comici le avevano palmate, come le oche. Ebbene, questi Cagò costruiscono una chiesa a pianta ottagonale, voluta dai Templari, e io dico nulla, ti porto al dentro questa chiesa, e poi vedrai cosa succede. Non ti voglio anticipare nulla, però ho portato scettici che dicono, ma se io sono messo in una determinata posizione perché ad un certo punto ti succede qualche cosa lì dentro. Non è qualcosa di religioso, è qualcosa più di fisico, un grande, una gran energia che, io adesso porto i capelli corti, ma se li portassi lunghi come te li avrei dritti sulla testa. Oddio! Comunque, chi è interessato può? No, no, energia fortissima, Templari. Interessante poter organizzare qualcosa veramente insieme sul luogo, e magari anche chi sta ascoltando adesso, se siete interessati, anche chiedete a me, poi organizziamo una bella squadra, è molto bello, perché vi rispetto, se poi guardate sulla mia pagina Libreria Equilibri, andando indietro, trovate proprio un paio di video piccolini che avevo fatto in diretta proprio quel giorno che sono arrivata davanti a sto bugarash, e poi testimone del fatto che io non conoscevo questo posto e che lo sbaglio anche a pronunciare, quindi ho veramente, non lo conoscevo, poi strano perché mi queste cose mi interessano, però niente, non lo conoscevo, l'ho visto, e l'ho veramente, ho sentito la vibrazione forte, forte. Stavo per portare a casa anche un gatto, perché c'era una signora lì che aveva dei gattini, mi fa, vuoi il gattino, cacchio, il gatto del bugarash, quello sarebbe stato, bello, bellissimo, sarebbe stato bello, però ecco, c'era il viaggio, era complicato, quindi è rimasto lì, però il gatto alieno, mi mancava. Ho una buon'idea, organizziamo questo viaggio e al ritorno, e al ritorno Lucia, se potremmo fare una pausa in questa zona dell'altranto che ci dobbiamo passare, della Liguria, dove ho scoperto questi paesi che trattano nel mio nuovo libro, appunto luoghi misteri, sono veramente luoghi misteri, ad esempio, in uno di questi, vicino ad Altare, un signore nel 1924 scrive una commedia che si chiama La morte in vacanza, La morte in vacanza, Beth Peat e Anthony Hopkins l'hanno interpretato in Te presento Joe Black, quindi quest'opera scritta in una villa considerata maledetta di questo paesino, che ancora oggi è considerata maledetta, perché veramente c'è giacura a passarci davanti, ebbene, questo signore nel 1924 ha trovato l'ispirazione lì per scrivere La morte in vacanza, che poi è diventato tanti film, tra cui ti presento John Blair con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Ma una vallata anche qua, la vallata di, di fatti l'ho chiamato appunto Luoghi misteriosi, perché veramente ci sono paesi che tu non diresti, ma basta andare un po', sotto la polvere delle consuetudine trovi cose enormi. quindi al ritorno da Rennes si potrebbe fare la chicca, la ciliegina sulla torta, questa vallata, tra l'altro vi porterai a mangiare all'osteria del castello, che è un luogo veramente magico, dove ci sono derrate, cioè uniamo l'esoterismo con l'esoterismo. con l'esoterismo, esatto. E intanto, visto che siamo quasi... Ma la si può organizzare, veramente, tra l'altro che abbiamo. Sì, sì. Allora, dicevo, intanto se avete domande cominciate a pensarle, cominciate a scrivermele sui commenti del post dove state assistendo alla diretta, non in privato, se no non le vedo, mandatemele qui sotto che io ve le leggo, domande, bizzarritevi che rispondiamo. E non abbiamo parlato, cioè, l'abbiamo nominata tantissime volte, però, ecco, la protagonista in tutto ciò è Maria Maddalena. Sì, quei luoghi sono luoghi comunque che sono molto collegati alla presenza di Maria Maddalena. Dici qualcosa su questo. Sì. Vabbè, io rivolgo su questo libro che purtroppo ha poca diffusione, ma è molto bella, La Dea Dimenticata, in cui parlo del femminino sacro. È un tema che mi è molto caro. Il femminino sacro è un tema che da dal tempio di Re Salomone e con Ashera che era il dio donna. Non era la moglie di Dio, il dio donna. Il dio era Yahweh, che poi diventa Geova, il testimone di Geova, Yahweh. E un imperatore fa distruggere il stato di Ashera perché non trova giusto che ci sia un dio donna. e questa divinità sui secoli che si chiamerà Iside, si chiamerà Maria Maddalena e arriverà praticamente in questa zona della Francia, del sud della Francia, dove il culto di Maria Maddalena è fortissimo. Ma è fortissimo anche perché ci sono stati probabilmente dei dati appunto legati a un fatto storico che dice che è accaduto, per cui la Maria Maddalena con delle altre donne tra cui Maria Giacobè, Maria Salomè e Sara sarebbe sbarcata a Saint-Marie-Lamare e sarebbero poi proseguite. Lei poi sarebbe andata alla Saint-Bom e si dice che abbia fatto anche un percorso nei Pirenei verso Rele Chateau. Qualcosa di vero c'è perché come ti dicevo le tombe dell'Ottocento molte hanno più una donna in croce che Gesù. Io ho le foto, non me le invento, perché sembra una cosa blasfema, no? Un croce per una donna e non questo è pure così è tombe ottocentesche, tombe antiche. E poi abbiamo tutta una serie di aspetti legati appunto al culto di Maria Maddalena, lì la corte di Maria Maddalena, cascate di Maria Maddalena al Bugarash, di tutto e di più, veramente, guarda, c'è Maria Maddalena è qualche cosa che aria nell'acqua e nell'atmosfera e la Madonna, la Vergine è qua un ospite, nella chiesa è un ospite dietro l'altare, non è praticamente, non dico menzionata, ma Maria Maddalena è molto, molto più importante. Forse perché era molto caro anche ai Catari che amavano lei e il Battista e probabilmente il credo Cataro ha perpetuato questo. Perché te lo dico? Perché i Catari avevano al capo della loro chiesa anche delle donne, c'erano delle donne vescovo, ma per 1200, cioè noi siamo nel 2020, non le abbiamo le donne vescovo, nel 1200 i Catari avevano donne vescovo. Ed è un qualcosa che risale appunto al culto del femminino sacro, a quello che l'altra metà del cielo, come viene chiamata, è stata occultata e ridotta alla strada di suora o perpetua, parliamoci chiaramente. In questo caso i Catari no, mettevano in primo piano la donna all'interno della chiesa. Catari che poi forse hanno fatto una brutta una crociata. Esatto. Esatto. Una crociata e insomma, vabbè, poi lì c'era anche di mezzo una questione economica probabilmente tutta la parte del sud della Francia faceva gola per alcune ricchezze, però comunque fatto sta con i Catari. Ieri a Provenzi non parlavano il francese, esatto, parlavano una sorta di patois che sembra cosa al dialetto piemontese e i principi del nord della Francia trovano comodissimo che il re, il papa e il re Filippo scrociata per praticamente per no scusa, Filippo no, Filippo dopo con i Templari e cento anni prima che è il punto che Innocenzo III faccia questa crociata. La stessa cosa verrà poi cento anni dopo 1300 con Filippo IV e papa Clemente V per attaccare i Templari questa volta che tra l'altro i Templari si rifiutano di attaccare i Catari è molto intrigante questo. Sì, 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 infatti anche tutta la vicenda interessante quando ho fatto la salita al Montsegur la prima parte impegnativa poi si va su bene e anche su 25 minuti di camminare infatti a metà cercavo qualcuno col defibrillatore ho detto aiuto ma non c'era però no è stata una bella esperienza e poi mi facevano sorridere perché c'erano poi questi personaggi un po' così che guardavano anche le fessure dei muri della della rocca io così quasi alla ricerca chissà del tesoro dei Templari del nascosto all'interno che poi si dice che invece questi quattro Catari siano scappati e il tesoro l'abbiano portato via sì l'abbiano portato nelle grotte di Ornolac e appunto lì una volta che era in salvo il loro tesoro era tutto a posto ma c'è da dire una cosa molto importante io sono un insegnante anche di soldi storia e mi baso sulle fonti chi è che scrive dei Catari i Dominicani i Dominicani perché i Catari non lasciano nulla di scritto i Dominicani che erano la polizia della chiesa erano l'inquisizione lasciano uno scritto molto particolare scendono quattro perfetti al campo scendono giù da Monsegur una bella discesa e dicono ai soldati sentite Pasqua non facciamoci guerra oggi venite su da noi a vedere Cristo che diventa sangue e carne nelle nostre mani molti non salgono ma alcuni ufficiali in curiosità salgono su con questi Catari non scendono più si tolgono la divisa e diventano Catari e vanno anche loro incontro al rogo nel campo dei Cremati che c'è sotto Monsegur perché quello che avevano visto in quella fortezza Cristo diventare sangue e carne nelle loro mani allora hanno ricreato il corpo di Cristo veramente? ce lo dicono i Domenicani non i Catari non dei Pazzoidi i Domenicani che erano al seguito delle truppe e scrivevano e facevano gli scrivani ma i Domenicani erano la polizia della Chiesa Dominiscane i cani della Chiesa erano veramente la parte più dura era l'Inquisizione e se questa si scrive una frase del genere vuol dire che la sua è successo qualcosa di veramente immenso lo stesso Otto Rang una figura che ho seguito molto ho studiato molto poi voglio chiudere con una via diciamo che ritrova lui quando ci salutiamo ecco mi piace chiudere poi con queste queste frasi scritte da una donna che aveva nuda su queste montagne detta la pazza di Montcalm è un episodio affascinante che affascina molto anche Otto Rang se ci sono domande sono già le 10-20 io faccio l'ultima cosa perché ne abbiamo accennato però è molto molto interessante intanto fatemi le domande dai che sono la parte più divertente allora hai accennato all'inizio che in questa tomba che Berengiel Sonnier trova distrugge c'era una frase misteriosa Ettin Arcadia Ego Ettin Arcadia Ego che ci riporta un quadro e la troviamo su tutti i quadri brava su alcuni dipinti tra cui uno del guercino ma quello più intrigante è quello di due quadri ma soprattutto di uno di Poussain di Nicola Poussain che era un pittore che viveva a Roma ed è seppolto in San Lorenzo in Lucina a Roma dipinge questo quadro appunto che oggi è conservato a Louvre l'ho visto personalmente a Louvre in cui si vedono dei pastori che indicano una tomba antica che ha una forma particolare su cui è scritto Ettin Arcadia Ego il paesaggio alle spalle di questa tomba è quello di Réle Chateau perché questa tomba fino al 1986 io l'ho persa per poco e Lucia per pochissimo c'era nel 1986 il proprietario del terreno stufo di vedere della gente che andava lì l'ha fatto saltare con la dinamina se era il caso di polverizzare quella di recintare mettere del filo spinato un manufatto storico l'ha polverizzato perché? forse perché dentro c'è cosa che scottava ancora adesso e questo te lo dico perché Poussain viveva a Roma lo va a trovare il fratello che era sovrintendente alle finanze delle re soli di Luigi XIV lui era un grande abate e scrive come un vescovo scrive al fratello a Versailles che era ministro delle finanze quindi non era un esoterista e gli dice Poussain mi arriva te la riassumo ad abbraccio Poussain mi arriva un segreto che nei secoli futuri non ce ne sarà di uguale che neanche i re potranno avere un qualcosa di enorme Poussain me lo rivelaro Luigi XIV memore delle fronde che aveva infestato il regno di Luigi XIII fa costruire Versailles come prigione dei nobili e confiscava la posta nelle sue mani arriva questa lettera tant'è che poco tempo dopo fa arrestare Fouquet con l'accuso di malversazione sarà sostituito da Colbert e fa di tutto per avere questo quadro questo quadro lo aveva commissionato il cardinale Rospigliosi che diventerà Papa con nome di Clemente IX mi sembra non vorrei sbagliarmi comunque un Papa e Rospigliosi lo teneva dentro un armadio lo stesso Luigi XIV questo quadro in cui si vedono questi pastori che indicano lo chiedeva chiuso e non voleva che nessuno lo potesse vedere uscirà da Versailles solo con la rivoluzione francese io l'ho visto a Louvre ma alcune volte non l'ho visto non l'ho trovato mi hanno detto i guardiani che era in restauro in realtà ma sai sui si dice nel mistero di Ranson la verità che lo studino ai raggi X per capire che cosa c'è di così misterioso in questo quadro che a sconvolta è il re sole e dietro c'è Ren Le Chateau si vede chiaramente si ricollegava la maschera di ferro che forse chi conosceva questo segreto era la famosa maschera di ferro la maschera di ferro che si racconta si si che sarebbe stato chiuso a Pinerolo in Piemonte poi tutti gli anni a Ren Le Chateau io invece vado tutti gli anni a Versailles perché io ho anche quella passione quindi si ricorda si riconnette tutto si riconnette un po' tutto allora le domande non ce le fanno l'Arcadia questa cosa comunque mi ha sempre molto incuriosito perché che cosa ci può essere in questa frase se la frase è fin'arcadia ego perché alla fine si riconduce il movimento dei pastori dell'Arcadia era un vezzo artistico una corrente che piaceva in quel periodo però chissà che non si dicevano che poteva essere un anagramma io sono amico di Henry Lincoln certo lo scrittore Henry Lincoln vive lì vicino a Ren Le Chateau uno degli autori del Santo Graal siamo amici e aveva scritto nel suo libro l'ha confermato che è la gramma di io nascondo i segreti di Dio ok ecco bello interessante allora ragazzi se le domande nella gramma sì 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 domande oggi siete timidi non ci hanno fatto la domanda adesso adesso mi picchi non ci hanno fatto la domanda su Plantard che io mi aspettavo meglio 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 quando esce fuori questo personaggio si inquina un po' tutto e tutto viene riportato a ah sì c'era Plantard in questo quindi era una stupidaggine perché sono personaggi ambini sì 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 non mi piacciono questi personaggi perché hanno dato di credito poi su e tu l'ho detto Ren per me è l'isola non trovata Ren è lasciato un luogo magico il luogo dell'anima quando sono giù basta che il mio pensiero voli là su quella montagna dei Pirenei che sto bene ecco lasciamolo lì sono dei luoghi veramente belli io consiglio a tutti quelli che ci stanno guardando di di andare e eventualmente di andare con noi perché lo dobbiamo fare questo viaggio perché è veramente bello poi con un conoscitore esperto io l'altra volta tra me e mio compagno mi sono improvvisata un po' guida però con una guida importante come Giorgio sicuramente sarà una cosa molto molto bella e poi sta cosa del del bugarash dobbiamo farla perché è bellissima e ragazzi assolutamente allora niente le domande siete in tantissimi siamo stati super esaurienti meglio vuol dire che abbiamo toccato tutti i punti importanti speriamo di avere così soddisfatto tutte le vostre curiosità io faccio una cosa che insomma aspetta dove volevo fare una cosa ma non me la fa fare meglio così niente a posto ma volevo mandare una cosa ma non me la fa mandare meglio così e niente allora ragazzi no sono io che sono rimasta indietro qui con ah no attenzione no ma ci sono le domande mi era rimasto scusate mi era rimasto indietro il cursore allora allora se ci siete spero che ci siete ancora voi due o tre che avevate queste domande allora eccolo infatti c'era quella su plantard Giorgio allora Antonio Fabiane ci dice Giorgio non le sembra che questo bisogno di mettere ordine a REN restauri musei e grandi pulizie possa servire solo a seppellire definitivamente la bella histoire di REN qua abbiamo anche già risposto sì si hanno fatto dei lavori sì sì hanno fatto dei lavori a mio avviso non era il caso di farli sì hanno asfaltato hanno divelti i giardini ha fatto sì sinceramente concordo concordo mi scuso perché mi era rimasto bloccato il cursore poi c'è Davis Fioretti che ci dice ho letto un libro dal titolo Oltre il velo su otto persone che in ipnosi regressiva hanno testimoniato di essere vissuti vicino a Gesù tutti hanno confermato che Gesù di fatto non fu crocifisso ma sostituito da un volontario sulla croce e tutti parlano di una fuga in Francia con quella che era la sua moglie Maria Maddalena e i suoi figli lì in Francia continuò la sua opera René Chateau era il posto in cui visse Gesù è legato in qualche modo quindi a proprio la figura di Gesù ovviamente qua entriamo in una sfera molto delicata perché ovviamente potrebbero essere i nostri ascoltatori dei credenti e quindi non voglio urtare la sensibilità di nessuno ma diciamo che è una delle vie che prenderebbe corpo la schiata dei re Merovingi che sarebbero stati dei re innanzitutto taumaturghi perché erano re che guarivano con le mani Clodoveno Dagoberto e poi c'è una montagna dietro dietro a le sciato che si chiama Cardu che è l'attriziazione di Corpe de Dieu Cardu e quindi anche lì ci sono dei ricercatori soprattutto inglesi che hanno fatto delle ricerche ma Lincoln stesso Henry Lincoln che è stato il primo a buttare un po' questa pietra nello stagno del fatto della genealogia di Gesù Gesù e la Maddalena ha detto che tutto intorno in un certo senso ha un po' ritrappato però ha anche detto che tutto intorno a re ci sono dei simboli delle stelle a cinque punti seguendo dei barri c'è tutta una serie di qualcosa sul territorio molto molto particolare però mi ha anche detto questa frase sibillina io non so chi l'abbia messo e a che cosa serve a questo diciamo che è una teoria fascinante intrigante il santo graal il sangue reale sarebbe della schiata di Gesù ma è un'ipotesi ovviamente allora intanto ho trovato quello che volevo cioè adesso faccio una cosa un po' così che direte ma che fa lei la Lucia allora io ho un piccolo indirizzo Paypal se volete farmi un siccome io queste conferenze queste cose le sto facendo gratuitamente perché comunque è molto bello tutto questo però è un periodo un po' difficile tutto quanto ma se avete Paypal e volete dare anche un euro in sostegno a queste conferenze che vi organizzo io sono gratissima mi spiace fare queste cose però sotto avete Paypal punto mi slash nuovi equilibri tv che sarebbe questo progetto che da tanto in mente quindi questo canale o Facebook o Youtube dove commettere queste interviste mettere anche questi viaggi che faccio potrebbe essere una cosa carina quindi se volete contribuire con il vostro supporto io adesso lo faccio scorrere un po' e grazie mille se qualcuno vorrà intervenire ecco scusate questo poi c'è un'altra piccola domandina o era quasi forse una constatazione dunque Fabio Carletti dice che riconducibile all'alchimia della trasmutazione della materia in oro in cui si richiedeva anche l'aspetto interiore probabilmente questa domanda si l'ha fatta mentre stavi parlando che a Ren comunque c'è più un segreto di tipo alchemico e quindi lui dice è riconducibile all'alchimia della trasmutazione della materia in oro in cui si richiedeva anche la trasformazione interiore sicuramente perché lui trasmutava qualcosa e otteneva nell'oro però c'è anche da dire una cosa importante che lui poi lo cambiava questo perché Sonier pagava in franchi non pagava in pezzi d'oro e quindi probabilmente c'è un discorso alchemico ma anche bancario e questo lo viene testimoniato dal fatto che lui aveva dei conti e andava è andato diverse volte in una banca ungherese andava fino a Budapest per fare questi probabilmente cambiare questo oro io credo nell'aspetto alchemico per la frase della donna che sono le uniche frasi che abbiamo perché Sonier non ci lascia niente di detto ma abbiamo la Mary Denardot che ci dice negli anni 50 la gente cammina sull'oro e non lo sa quindi non lo sa e io non lo posso toccare e quindi qualcosa che se era un oro fisico avrebbe potuto anche lei prenderlo in mano era un oro alchemico mi baso su cosa dice la perpetua qualcosa a cui l'accesso era riservato solo a chi avesse un'iniziazione o una contro iniziazione visto che si parla tanto del doppio e dello speculare magari qualcosa che riguarda Sì dunque 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 noi direi che siamo al finale ci devi lasciare quindi con quella con l'aneddoto di Otto Run che ci volevi raccontare sì sì allora Otto Run era un maggiore dell'SS che viene da Rudolf Hess appunto a fare delle scavi delle ricerche nel sud della Francia per i catari lui è affascinato dalla vicenda di una donna qui entriamo nel femminino sacro di una bellissima donna che girava nuda sui Pirenei detta la pazza di Moncalvo che pazza non era e siamo nell'ottocento e questa donna crea scandalo ben pensano vanno a cercare la prendono la portano a valle la vestono lei si rispoglia e ritorna su c'è due o tre volte in uno di questi passaggi un giudice le dice ma lei non ha paura di stare lassù che ci sono i lupi e gli orsi lei dice i lupi e gli orsi mi riscaldano io non ho paura di loro ho paura degli animali a due zampi cioè degli uomini e poi venire anche lei nelle grotte di Ornolac dove i Cateri hanno portato via il famoso probabilmente il loro santo grallo il loro tesoro e Ottoran facendo poi delle ricerche ovviamente cento anni dopo trova una poesia incisa su un muro dentro queste grotte e a lui piace pensare dato che dove era stata proprio questa donna ed era molto antica quindi poteva essere di cent'anni prima che la poesia dice che cos'è Dio ben lungi dal decidere alcunché su questo essere supremo conserviamo adorandolo un silenzio profondo il mistero è immenso e lo spirito si confonde per dire ciò che egli è bisogna essere lui stesso e su questa frase anonima scritta probabilmente da questa donna che non era assolutamente pazza che era forse l'ultima discendente dei catari che aveva dentro di sé il segreto di questa antica libertà otto rand decide di cambiare vita esce dall'SS va in Germania torna in Germania vicino sul confine austriaco dove lo trovano morto sul monte Kufstein in che modo lo trovano morto lo trovano morto di freddo e di fame lui ha voluto morire così l'endura i catari una volta ottenuta l'endura si andavano in cima una montagna e guardavano il sole nascere e morivano di fame e di freno ma col sorriso perché avevano ottenuto il vero scopo della vita ossia quello di lasciare questo corpo pesante ce lo dice anche il piccolo principe che lui vuole lasciare quel corpo per andare a assistere alla sua rosa e lo stesso i gran i capi dei catari i loro sacerdoti sapevano che la mia vita non era quella dello spirito e Otoran muore guardando il sole nascere sul monte Kufstein nella sua nuova vita che sicuramente la pazza di Montal questa doiosa gli aveva inculcato questa febbre che non si sarebbe più estinta grazie grazie mille e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato il video lo trovate rimane sulla pagina Libreria Equilibri e quindi ci vediamo presto mi raccomando chi vuole fare il viaggio mi contatti perché lo organizziamo alla faccia del coronavirus grazie mille buona serata ciao grazie mille grazie mille